Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Yu-Gi-Oh! Miliemium Duells. Qui ci troviamo sul PlayStation Store e ho acquistato i seguenti pacchi. Allora, Sinzing Dragon qui, Super Pack 01, poi ho acquistato Pezzi Deck Sodia e Pro Pezzi Deck. Poi ho acquistato Photon Galaxy Deck e vediamo che altro ho acquistato, se ho acquistato qualcos'altro. Ah, niente più, solo questi qua. Niente, vediamo nel gioco cosa ci hanno regalato. Allora, ci hanno regalato o non ho comprato? Che cosa ci sarà dentro il contenuto. Allora, entriamo nel gioco. Andiamo. Ok. Allora, siamo rimasti qui. Ai draghi sincronizzati. Allora, vediamo. Io non è che tanto mi ne intendo di sincronizzazione. Che abbiamo? Drago delle Macerie. Drago di alta qualità. Drago di luce e oscurità. Drago esplosivo. Drago e Genesi. Drago mascherato. Drago metallo di poscuro occhi rossi. Drago norte bianca. Drago totem. Falange e drago unità. Condottiere e drago unità. Drago da richiamo. Drago delle Macerie. E così. Poi di magia abbiamo questo risuscitato. Altri sarco provocadoro. Si porta sciocca. Altra spada rivelatrice. Tempesta potente. Tipone spaziale mistico. Giudizio solenne che è proibito. Massa appunto urgente. Solfio in genziaro. 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 Legionale dragunità. Viverno in occhi rossi. Distruzione schiacciante. Geniale della verizia. E questo è i draghi sincronizzati. Il pacco draghi sincronizzati. Andiamo a vedere. Deck galassia fotonica. Ah no scusate ragazzi. Vi ho fatto vedere sui draghi sincronizzati. L'extra. Eh logicamente. Allora abbiamo antico. Drago fatato. Arcidemo drago rosso. Cavaliere dragunità Gae Balch. Cavaliere dragunità Gae Daru. Detonatore ala di drago. Drago catena di ferro. Drago della luce finale. E poi drago finoscura. Drago polvere di stelle. Wow. Questa è super rara. Drago polvere di stelle. Un drago leggendario. Anche questo è il drago rosa nera. O uno dei draghi leggendari. Drago tridente. Ah ce ne sono parecchi. Antico drago fatato. Arcidemo drago rosso. E' così. E niente ragazzi. Questo pacco finisce qui. Lanciera dragunità. Specchio del drago. Allora. Andiamo a vedere l'altro. Allora. Deck galassia fotonica. Carica. 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 Allora. Vediamo. Distruttore fotonico. Abbiamo. Drago fotonico occhi galattico. Leone fotonico. Ricertura fotonica. Tutti fotoni. Pirato fotonico. Satellite fotonico. Stregone galattico fotonico. Indentatore fotonico. Cavaliere galattico. Cesare fotonico. Distruttore fotonico. Drago fotonico occhi galattici. Ma che non ho già detto. Leone fotonico. Satellite fotonico. Stregone galattico. E' così. Poi c'è il messaggio di bottiglia. Santuario fotonico. Ispezione galattica. Tridente fotonico. Zero galattico. Catena demonica. Luminorizzare. Tigre fotonica. Divendola fotonica. Io ragazzi queste carte qua non le conosco proprio guida fotonica. Non l'ho mai vista neanche. E' così. Andiamo a vedere extra. Su X cosa abbiamo? Numero 9. Sfera diesel qua. Mi non so cosa sia. Palla di mano. Stella vasallo. Butta fuori colpo fotonico. Galaxion. Signora. Sfera di storia. Neozrago fotonico. Occhi galattici. Numero 107. Drago galattico. Ok. Numero 10. Illumino. Cavaliere. E' così. Cosa c'è qua? Altri carte extra. Ok. Andiamo su. Cartepack 1. Carica ricetta. Si. Ok. Ma vediamo. Cosa ci hanno dato. Cosa c'è qua? Amiro elementale. Invece. L'uomo elementare. Maligra. L'uomo elementare. Negro ombra. Colceano elementare. Questo qua. L'uomo elementare. Emergenza. Fusione miracolo. Fusione polinizazione. Rette giustizia. Rimporsi all'esercito. Super polimerizzazione. Scarto una carta da più controvazione. Siamo su. Extra. L'uomo elementare. Ah bello. Difono ispezione. Unistico. Forza riflessa. Bene. Segna del roe. Tributato torrenziale. Ok. Extra. Plasma abisi. Erro elementare. Terraferma. Erro elementare. Boom. Malato selvaggio. Erro elementare. Dark bite. Erro elementare. E finete selvaggio. E ci puoi essere fortissimo. Questa carta qua. E Gaia. Erro elementare. E gigante. Erro elementare. Ok. Adesso vediamo. Allora. Vediamo. Il super pacco. Vediamo cosa contiene questo super pacco. Carica. Ok. Allora. Wow. Mago nero. Bellissimo. Il super pacco. Uno contiene mago nero. Ok. Poi c'è il cavale della scoperta del teschio. Va bene. Drago del giudizio. Drago metallico. Chi rossi. Grepe oscuro. Cosa è questo? Lidia stregona della fedele della luce. Nefion scuro. Ragione maga nera. La ragazza maga nera. Vabbè. Trego idea. Carica della brigata luce. C'era. Il caro solare. E questi qua. Bene ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Queste sono le carte in cui contengono le pacchi. Poi nel prossimo video farò. Farò un duello con questi deck qua. Adesso vediamo più o meno perché non ne conosco neanche io. Niente. Ragazzi. Lasciatemi un commento. Fatemi sapere la vostra opinione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.